Lo scorso 26 marzo, presso l'Abbadia di Cava, è stato istituito il Comitato di gestione del Castello dell'Abbate. La commissione è composta da quattro componenti nominati rispettivamente dal sindaco Marco Rizzo e dall'Abbate Don Michele Petruzzelli, ovvero il dottor Luigi Maurano, vice sindaco e assessore alla cultura, Enrico Nicoletta, responsabile promozione turistica e culturale del comune di Castellabate, l'architetto Carmen Chiara Guarino e il dottor commercialista Tommaso Sorrentino. Si avvia così la programmazione di tutte le attività da svolgersi all'interno del Castello dell'Abbate dopo la stipula della convenzione avvenuta lo scorso febbraio, il neocomitato creato ad hoc per la sua gestione. Ringrazio nuovamente l'Abbate Petruzzelli per la sua disponibilità dimostrata anche in questa occasione. Sono sicuro che questa collaborazione permetterà di gestire in modo ottimale il castello, continuando a dare lustro all'intero comune, dichiara il sindaco Rizzo. Come assessore alla cultura sono assai lusingato di essere stato nominato membro di questo comitato per la gestione del nostro castello, ovvero della nostra storia, cultura e religione, il castello e Castellabate. Dare lustro ad esso significa estenderlo poi a tutto il nostro comune. Grazie alla giornata odierna sarà possibile avviare la programmazione di tutte le attività culturali ed artistiche di cui sarà location il castello, afferma il vice sindaco Maurano. Sono onorato di far parte di questa commissione. Il nostro castello merita di essere oggetto di promozione turistico-culturale, accurata e puntuale, proprio alla luce delle sue bellezze e del suo valore. E proprio grazie a queste, esso è in grado di trasferire valore aggiunto a qualsiasi evento o prenda vita tra le sue mura, afferma Enrico Nicoletta.